Continuano le iniziative da parte dell'associazione ADOS, l'assistenza domiciliare ospedaliera e servizi sanitari. Un altro progetto è in ballo, a spiegarcelo meglio il presidente dell'associazione Rosa Gigi e il vicepresidente Matteo Costabile. Ci troviamo presso la serie dell'ADOS a Salerno. Abbiamo ai nostri microfoni la presidente, a cui vogliamo chiedere inizialmente, partendo dalle origini, che cos'è l'ADOS, un po' come è, quali sono state le evoluzioni? Allora, l'ADOS nasce un bel po' di anni fa sull'agronocerino sarnese. Siccome però le richieste partivano soprattutto dalla zona di Salerno, abbiamo deciso di aprire un punto qua, appunto, su Salerno e ci troviamo a Pastena. Diciamo che è nata fondamentalmente da un'idea mia, del vicepresidente e del responsabile degli operatori, Matteo Costabile. Nasce soprattutto appunto per dare un sostegno alle famiglie che hanno necessità di trovare personale adeguato, assistenziale ovviamente. Ci rivolgiamo soprattutto all'aspetto sanitario, quindi è un'associazione, appunto, ADOS è un acronimo, che vuol dire appunto assistenza domiciliare ospedaliera, servizi sanitari. In relazione a questo abbiamo deciso di stare qua, su Salerno, proprio perché la richiesta veniva soprattutto da Salerno, ma ci stiamo rendendo conto che nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato, le persone hanno bisogno di trovare un punto a cui aggrapparsi in certe situazioni, quando hanno in casa un familiare che non sta bene, un familiare che ha bisogno di cure proprio sanitarie, specifiche. Quindi è partito da questo l'associazione. In realtà al proposito ora mi sposto dal vicepresidente perché c'è qualcosa che bolle in pentola, giusto? La difficoltà che stiamo riscontrando è proprio quella là che noi abbiamo chiesto aiuto alle chiese, abbiamo chiesto aiuto ai preti, perché a Salerno soprattutto ci sono tante persone, ma tante, che vivono con 520 euro al mese, persone che vivono con una miseria e ci vengono a chiedere aiuto. I nostri operatori per quanto è volontariato, il rimborso spesa della benzina, di un buono pasto, bisogna darglielo. E le persone devono scegliere o mangiare o farsi curare da noi, essere assistiti da noi. Quindi la nostra idea era quella là di chiedere aiuto alle chiese per farci sostenere, per sostenere, per sostenerci e in qualche modo aiutare queste persone che ne hanno bisogno. La risposta non è stata positiva, anzi la risposta l'ho avuta da Don Osvaldo, dalla chiesa di San Cipriano, dalla chiesa di Filetta. Le chiese di Salerno mi hanno deluso. pensano un pochettino ai fatti loro, pensano un pochettino a ristrutturare le chiese, a fare manifestazioni e quant'altro, ma alla sanità, al vero bisogno del cittadino che si trova in un letto. Io poi vorrei vedere loro stare su una sedia a ratella, stare inchiodati in un letto, senza potersi muovere, senza potersi fare qualcosa da solo, da soli. E loro in realtà non li sentono questi problemi, non li avvertono e ci hanno risposto in malo modo. Questa cosa a me poco mi va giù, poco mi fa stare bene. In realtà, in relazione proprio alla risposta positiva di questi preti, sia di San Cipriano che di Filetta, stiamo riuscendo a fare qualcosa e spero di fare ancora di più per queste persone. Anche perché, tornando al progetto, il progetto che voi state proponendo, penso che sia qualcosa che vada anche al di là di un semplice aiuto, un vero e proprio sostegno. Vogliamo spiegare in che cosa consiste la proposta, qual era? Sostegno gratuito, avere un aiuto dalle chiese significherebbe dare tanta assistenza gratuita alle persone. Se riusciamo a raccogliere fondi, il progetto è questo qua. Raccogliendo fondi, noi chiediamo alle persone di presentarsi presso i nostri uffici, chiedendoci e esponendo la loro problematica. Se le condizioni economiche rientrano nei parametri, noi diamo assistenza gratuita senza chiedere un centesimo. Questo è l'obiettivo. E andiamo ad aiutare tutte quelle persone che con quel minimo di pensione che prendono, non devono accollarsi pure alla spesa sanitaria. Tutto qua. Purtroppo si evince la rabbia, proprio perché l'argomento che è trattato è un argomento di fondamentale importanza, anche perché riguarda la salute. Ma perché fondamentalmente l'associazione non è nata per mettere in piedi un'attività nascosta o quant'altro. L'associazione è nata da problematiche private, dalla morte dei miei genitori, dalla voglia di fare qualcosa per altre persone. Sono tanti anni che faccio questo lavoro, sono tanti anni che mi occupo di persone allettate, di persone disabili, di semplici ammalati o con malattie gravi. E non è nata per fare un qualcosa perché non sappiamo cosa fare. È nata col cuore, è nata con l'intento di fare bene. E vogliamo fare... Noi vogliamo ribadire che l'argomento in questo è un argomento veramente in questo caso possiamo dire di vitale importanza. Pertanto un sostegno in più sarebbe una cosa ben gradita e forse anche una cosa legittima da questo punto di vista. Io facendo questo tipo di assistenza tutti i santi giorni io ne vedo che ne vedo di persone che stanno a letto, di persone che con lo sguardo ti chiedono aiuto, ti chiedono un sostegno, ti chiedono la forza di andare avanti. E io questo è quello che con i miei 35-37 operatori cerco di dare agli altri. Però purtroppo noi non abbiamo aiuto dall'istituzione, non abbiamo aiuto da nessuno. Ci autogestiamo, ci autosonvenzioniamo, sia gli assistiti che ci aiutano, sia gli operatori che ci aiutano e cerchiamo di mantenere questa struttura in piedi. Però se continuiamo ad autosonvenzionarci, prima o poi anche noi siamo destinati a morire perché le spese ci sono e non è facile andare avanti. Però mi piace essere prepositivo, mi piace essere testardo in questa cosa e voglio andare avanti. Quindi io sto smuovendo Mari e Monti per portare avanti questa mia iniziativa e ce la farò, ne sono convintissimo perché io penso che poi fondamentalmente siamo una popolazione di persone fatte di un grande cuore. Quindi alla fine penso che ce la faremo ad aiutare tutte queste persone. Tutti i giorni vediamo in televisione che le strutture, le grandi strutture a Roma, a Salerno e in tanti posti in Italia stanno morendo perché a livello istituzionale stanno facendo tagli da qualsiasi parte. Quindi a livello volontario forse è l'unica forza che rimane per aiutare gli altri. Si evince dal fatto che una semplice visita o una semplice radiografia, una semplice geografia bisogna pagarla, c'è il ticket e quant'altro. Quindi almeno altre piccole cose cerchiamo di non farle pagare e le diamo gratuitamente. da un pannolone, una traversa, un medicinale che ci viene portato e sta a disposizione di tutti. Sono tutte carrozzine per persone allettate, è tutto gratuito. Con la speranza che poi qualcuno si svegli da questo, vogliamo ricordare dove si trova l'associazione oppure qualche contatto così in modo tale che qualcuno che fosse interessato potrebbe contattare. L'associazione si trova in Via Madonna di Fatima 76, zona Pastena e i contatti sono presso il nostro sito. Si può evincere il sito, la posta elettronica e i numeri di telefono. Voglio ricordare che siamo H24, nel senso che le persone, gli assistiti, i familiari possono chiamare in qualsiasi ora. Ovviamente non facciamo pronto soccorso, per cui siamo sempre operativi, nelle festività, nelle domeniche, sempre. Possono chiamare quando vogliono. Perfetto. Vogliamo ricordare il sito? Sì, il sito è www.assistenzaados.it. I numeri di telefono sono 089-9481-393, il fax 089-2858-357. C'è il numero per l'H24 che è 338-97-06-697 e 333-2820-890. Siamo sempre reperibili. Ok, l'associazione è questa, quindi vogliamo dare una sorta di sensibilizzazione a chi ci sta seguendo affinché si riesca a non far morire un progetto.